Benvenute e benvenuti all'incontro di oggi, io sono Rosanna Maccarone insieme ad Alessandro Cardinale che anche lui come me e dell'Ampi di Francoforto ha il compito di introdurre e moderare questa discussione. Parleremo di migrazioni verso l'Europa, dal sud e da est ma anche dei percorsi dei migranti all'interno dell'Europa. Questo argomento è in primo piano nel dibattito pubblico ormai da anni ma così come è trattato dalla maggior parte dei media e dei politici e degli esperti la sensazione è che i contenuti e i toni di questo dibattito siano profondamente inadeguati e che diano anche un'immagine distorta della realtà. Con un risultato inquietante e cioè che il fenomeno dell'immigrazione venga rappresentato per lo più con la metafora dell'invasione del tutto impropriamente, invasione a cui poi di conseguenza l'Europa deve reagire difendendosi, erigendo muri, barriere e poi fino ad usare la forza militare poliziesca come sta succedendo adesso al confine con la Polonia. Questa rappresentazione prevalente del fenomeno ha l'effetto di cancellare la soggettività dei migranti e la loro umanità proprio perché li uniforma in questo cliché dell'invasore per l'appunto, quindi un'immagine negativa e conflittuale. In questo contesto ideologico cioè del presunto bisogno di difendersi dall'invasione si spiega poi anche l'accanimento e la sistematicità con cui vengono ostacolate, punite le pratiche di solidarietà e di accoglienza e progetti di integrazione dei migranti che per l'appunto disobbediscono all'imperativo dell'esclusione del respingimento ed inoltre questa logica della difesa si riflette poi sempre di più nelle legislazioni dei paesi europei e in generale nelle politiche perseguite dall'Unione e dai singoli stati. Ecco noi dell'AMPI crediamo che questo modo di affrontare il fenomeno dell'immigrazione sia contrario ai principi fondativi dell'Unione europea e a quelli della Costituzione italiana oltre ad essere oggettivamente insostenibile e a creare delle inevitabili tensioni internazionali con degli esiti imprevedibili. Quindi noi vediamo come questo modello mette l'Europa in una situazione di ricattabilità da parte dei paesi confinanti, la Libia, la Turchia, il Marocco, oggi anche la Bielorussia. Ecco per queste ragioni abbiamo voluto organizzare questo incontro pubblico con l'aiuto dei relatori che ringraziamo per aver accettato il nostro invito e vogliamo riflettere sulla complessità del fenomeno delle migrazioni rifiutando questa narrazione dell'invasione e anche restituendo ai migranti la loro soggettività vogliamo fare il punto sulle politiche europee e cercare di capire quali strumenti, quali leve abbiamo, esistono per cambiare la direzione di queste politiche e poi vogliamo anche ascoltare la voce di chi nella società civile porta avanti con grande tenacia e determinazione un discorso di confruttore dei migranti che invece è improntato alla solidarietà, all'accoglienza e all'inclusione. Ecco io mi fermo qui, vi prego di tenere i microfoni spenti quando non avete la parola per evitare rumori di fondo e passo il testimone ad Alessandro. Buonasera, grazie Rosanna. Passo a presentare tutti e quattro i relatori, le relatrici che abbiamo l'onore di avere con noi questa sera. Vi ringrazio a nome di Ampi per la partecipazione e correggetemi se dico qualcosa di sbagliato durante le presentazioni. Incomincio con Luca Queirolo Palmas, che è professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova. Studentesse e studenti dell'Università di Genova possono seguire tra gli altri il suo corso di Sociologia dei processi migratori. Chi non è studente può invece leggere un libro di cui lui è autore insieme a Federico Raola, una recente pubblicazione dell'anno scorso per Mel Temi. Il libro si intitola, anzi ce l'ho pure qua, Underground Europe lungo le rotte migranti. Passo a presentarvi Lorena Fornasin e Gian Andrea Franchi. Lei è psicoterapeuta, lui docente di filosofia in pensione. Vi li presento insieme non solo perché sono marito e moglie, ma perché sono entrambi fondatori di un'associazione di volontariato che si chiama Linea d'Ombra ed è nata a Trieste nel 2019. Poi correggetemi se sbaglio date o dettagli importanti. L'associazione offre sostegno alle popolazioni migranti lungo la rotta balcanica e ci diranno loro successivamente di più delle loro attività e degli ostacoli incontrati. Un altro intervento è quello di Nicola Fratoianni, membro della Camera dei Deputati e segretario del Partito Sinistra Italiana. Non può essere con noi in collegamento diretto a causa di impegni presi in precedenza, ma ci ha inviato il suo contributo in forma pre-registrata. Lo ascolteremo a breve. Avevamo in origine previsto un altro relatore che però ha disdetto la sua partecipazione un paio di settimane prima della data prevista per l'incontro. Ringraziamo quindi Nicola Fratoianni che pur impossibilitato a intervenire di persona si è comunque reso disponibile a farcevere il suo punto di vista appunto in forma pre-registrata. Questa è la presentazione veloce dei relatori e delle relatrici. Possiamo intervenire con, possiamo iniziare con gli interventi. L'ordine è questo, in scaletta Luca Querolo Palmas, poi ascoltiamo il contributo di Nicola Fratoianni e poi passiamo la parola a Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi. Allora io mi fermo e passo la parola a Luca Querolo Palmas. Prego. Ecco, mi sentite? Sì, mi sentite? Bene, intanto grazie per l'invito, è un onore, come dire, partecipare a un incontro del Lampi di Francoforte. Perché penso che la questione dell'essere partigiani è qualcosa che concerne non solamente lo spazio dell'iniziativa sociale, politica, ma anche lo spazio della scienza. La scienza è un campo di lotta ed è importante in qualche modo assumere che il sapere che noi produciamo è sempre un sapere situato, che in maniera più o meno trasparente si colloca, dicendolo o non dicendolo, da un determinato punto di vista. E il punto che noi assumiamo nelle nostre ricerche, ricordavi prima che faccio il ricercatore, il docente di sociologia della migrazione, è il punto di vista di chi lotta per l'abolizione delle frontiere, che quindi guarda ai movimenti e alle migrazioni come una straordinaria forma di iniziativa, in sociologia la chiamiamo agency, di capacità di azione dei migranti, che attraverso le loro pratiche rendono porosa, diciamo, quella fortezza Europa che si è andata costruendo negli ultimi 30 anni. Sto a ripetere delle cose banali, sappiamo tutti che, insomma, il muro di Berlino, abbiamo celebrato l'anniversario della caduta qualche giorno fa, bene, da allora ad oggi l'Europa e il mondo intero non hanno fatto altro che produrre muri su muri su muri su muri. Penso al tempo stesso che l'immagine del muro sia un'immagine che possa in qualche modo rappresentare, certo, delle dinamiche che sono in opera, ma al tempo stesso rendere meno evidenti, come dire, la capacità che i soggetti hanno di rendere porosi e di attraversare questi muri. Il muro, come dire, è un'iniziativa degli stati che ovviamente genera drammi, sofferenze, blocchi, ma che è costantemente e continuamente sfidato dall'iniziativa di migranti, cittadini e coalizioni che si strutturano attorno alla questione della libertà di movimento. Beh, come non avere negli occhi oggi, mentre parliamo di migrazioni, le immagini alla frontiera fra Bielorussia e Polonia. Penso al tempo stesso che occorra, come dire, leggere quelle immagini con attenzione, perché in parte sono le immagini, sono immagini ripetute, no? Quello che sta avvenendo lì non è sostanzialmente diverso da quello che è avvenuto a Ceuta e Meligna qualche mese fa, quello che è avvenuto sull'Evros, al confine fra Turchia e Grecia l'anno scorso, e di che cosa ci parlano quelle immagini, ci parlano di qualcosa che si ripete e che quindi, come dire, mette al centro il fatto che gli stati sono dei soggetti cruciali nella gestione e nella spettacolarizzazione dei fenomeni migratori. Al tempo stesso che lì si gioca, come dire, una partita legata a una rendita geografica, in fondo la Bielorussia adesso non sta facendo qualcosa di diverso da quello che ha fatto la Turchia, facendosi pagare miliardi e miliardi di euro da quello che si ha fatto il Marocco negli ultimi vent'anni. Peraltro, voglio dire, quando noi stavamo a Ceuta e Meligna a fare ricerca, i migranti subsahariani che incontravamo ci raccontavano ma noi siamo arrivati in aereo in Marocco, quindi, come dire, c'è una partita che si gioca anche fra stati e che ha a che vedere con la dimensione dello spettacolo e la dimensione delle economie che si generano attorno alle migrazioni, che sono economie enormi, sono mercati enormi legati alla sicurezza. L'altro giorno facevamo un seminario con un giornalista dell'Arizona, Todd Miller, e lui come pratica di ricerca si è girato per diversi anni tutte le fiere in cui i vari venditori di muri vanno, come dire, a mettere in vetrina i prodotti che offrono agli stati. E quindi, come dire, mi viene a dire che sino a due settimane fa discutevamo di quanto la Polonia fosse un soggetto poco democratico, discutevamo di come alcuni 12-13 paesi dell'ESP volessero costruire un muro e queste immagini, come dire, stanno, stanno lì dentro, sono immagini che abbiamo già visto e ovviamente sono immagini che producono sofferenze, no? Sono immagini che producono nuova sofferenza. Penso al tempo stesso che dovremmo, perlomeno è quello che noi abbiamo cercato di fare, di provare anche a uscire dal racconto dominante sulle migrazioni, che è un racconto che si fonde essenzialmente su due capisaldi. Uno bisogna gestire i flussi e quindi gestire i flussi significa muri, significa muri intelligenti, significa piattaforme di controllo, significa esternalizzazione del confine e così via. In questa narrazione i migranti sono essenzialmente soggetti passivi, sono vittime in mano a, come dire, altri che sono invece i cattivi, che sono i trafficanti piuttosto che gli smuggler. E questa, come dire, è una narrazione comoda, perché penso che, come dire, mettendo l'accento su fenomeni che ovviamente esistono, contribuisce a nascondere invece la porosità delle frontiere, soprattutto i processi che generano quella porosità. I processi che generano quelle porosità hanno a che vedere con la capacità di migranti e cittadini europei di contrastare la riemersione delle frontiere interne e di generare in ogni zona di frontiera delle possibilità di vita, di incontro, di relazione, di passaggio di luoghi sicuri. E il libro che tu citavi prima nasce un po' da questo tipo di ipotesi, cioè che cosa abbiamo fatto noi dal 2015 ad oggi, abbiamo girato tutta una serie di luoghi legati alle frontiere interne dell'Unione, da Ceuta, Meliglia, Pozzallo, Ventimiglia, ma anche grandi città come Parigi, che funzionano un po' come hub di questi movimenti secondari. Questa è un po' la prosa, il lessico dell'Unione europea, no? Che parla di movimenti primari, quelli che vanno a sbattere contro il confine esterno dell'Europa e movimenti secondari che non si capisce perché dovrebbero essere illegittimi o perché dovrebbero essere controllati in qualche modo. E allora noi quello che abbiamo fatto è andare a, come dire, a provare a raccontare un'altra storia, andando a vedere come queste frontiere in realtà sono porose, come nonostante decenni di investimenti tecnologici, monetari, sulla costruzione di muri e di sistemi di controllo, queste frontiere vengono concretamente e continuamente attraversate. Ovviamente, no? Ogni muro e ogni, come dire, nuovo dispositivo genera sofferenze, genera rischi maggiori, genera nuove morti, perché rende in qualche maniera il passaggio qualcosa di ancora più difficile. E allora noi abbiamo provato, come dire, a raccontare quello che succede dietro le quinte in questi luoghi di attraversamento in cui alcune cose tendono a sfumare, no? Tende a sfumare la distinzione fra umanitario e politico nel momento in cui portare del cibo o delle coperte o portare in ospedale una persona che ne ha bisogno o offrire un rifugio, un tetto, diventano sanzionati dal codice penale. Ecco che quel lato, come dire, più umanitario della solidarietà per forza di cose si politicizza, perché è tirato dentro una questione e una forza, come dire, un dibattito completamente diverso. E allora penso che osservare le frontiere a partire dal lato della loro porosità ci possa, come dire, aiutare a provare una storia diversa, no? dell'Europa che si sta costruendo. E noi per fare questo riprendiamo un po' la metafora della ferrovia sotterranea. Non so se avete visto, avete letto il libro di Colson Whitehead, poi ci hanno fatto anche una serie tv. Ferrovia sotterranea che cos'era? Era questa straordinaria infrastruttura di solidarietà che ha permesso a decine di migliaia di schiavi dal 1800 fino alla guerra civile americana nel 1860 di passare verso gli stati liberi, fra virgolette, del nord. E questa infrastruttura della solidarietà era fondata da schiavi liberati, da mille denominazioni religiose, essenzialmente i quaccheri, da soggetti che erano, si erano ispirati, come dire, dall'illuminismo francese, e questa infrastruttura permetteva in qualche modo il passaggio sicuro verso gli stati liberi del nord. Attenzione, perché negli stati liberi del nord esisteva una roba che andava sotto il nome di legge sui fuggiaschi e che qualcosa un po' di simile a Dublino, no? Nel senso che sì, tu arrivavi al nord, ma continuavi a essere proprietà dello schiavo che avevi, dello schiavista che ti eri lasciato alle spalle. Proprio per questo, no, questi movimenti continuano verso il nord fino ad andare a parare in Canada. Allora noi riprendiamo questa storia della ferrovia sotterranea per provare a mettere in evidenza invece la straordinaria mobilitazione, ovviamente contrastata da movimenti opposti di pezzi della società civile che nel momento in cui si incontrano e praticano questa dimensione umanitaria provano anche, sono in qualche modo obbligati a politicizzarsi, no? Noi pensiamo che la criminalizzazione della solidarietà, come dire, che è qualcosa che vediamo un po' in tutti i paesi europei, è qualcosa che non concerne, è qualcosa come dire che mette in evidenza l'esistenza di questa ferrovia sotterranea. Se non esistesse una ferrovia sotterranea che permettesse il passaggio dei migranti al di là delle frontiere interne dell'Europa non ci sarebbe neanche bisogno di trasformare i codici penali e di criminalizzarla. Allora penso che sia, come dire, importante riprendere quella storia perché abbiamo bisogno di storie entro cui riconoscerci, entro cui costruire delle coalizioni, entro cui costruire delle alleanze che mettano insieme chi parla di migrazioni, chi fa ricerca sulle migrazioni, chi sta sulle frontiere a fare azione umanitaria, chi prova a trasformare gli immaginari. E penso che abbiamo in qualche modo bisogno di riconoscerci all'interno, no? Di un racconto diverso che non è unicamente quello degli scafisti, quello dei trafficanti, quello dei muri, che ovviamente esistono, ma è proprio come dire se vogliamo uscire da questa idea della vittima perché i migranti non sono vittime, vogliamo uscire da questa idea della vittima, abbiamo bisogno, come dire, di mettere al centro il fatto che le frontiere nonostante tutto sono attraversate. Uno dei protagonisti del libro è un ragazzo del Camerun e vi volevo leggere un pezzo di una roba che mi ha detto qualche giorno fa, no? e mi dice, guarda Luca, il mio viaggio è stato andare verso nulla e senza niente e quasi per magia arrivare a destinazione. Ecco, penso che noi dobbiamo in qualche modo favorire, interrogare, rendere evidente quella magia sociale che permette a migliaia di persone di valicare la borderline europea nonostante tutto e provare ad uscire anche da questa idea del fatto che il muro è solo una recinzione. Già 15 anni fa Balibar parlava dell'Europa come frontiera, ogni singolo pezzo di questo continente può essere una frontiera, ogni singola scrivania di un funzionario pubblico è un pezzo della frontiera. Vi cito, come dire, una roba assolutamente anedotica, ma abbiamo una studentessa di dottorato dell'Università di Genova che viene dalla Tunisia, è una studentessa di dottorato e non c'è verso di farle avere un visto Schengen. Perché? Perché dovrebbe depositare su un conto bloccato 6.000 euro per poter iniziare, come dire, a richiedere questo visto. E allora mi chiedo io, no, se persino una studentessa di dottorato di un'università europea non riesce ad ottenere una forma, come dire, uno statuto legale per poter accedere a questo continente, abbiamo di fronte, come dire, un problema gigante legato alla questione proprio di ripensare la politica delle migrazioni, no? Trovo abbastanza scandaloso che continuiamo a discutere di movimenti secondari dei migranti, no? Viviamo in un solo continente, ma perché lo statuto del rifugiato, lo statuto del migrante non deve essere uno statuto europeo che a prescindere dal paese in cui si entra, poi, no, è normale potersi muovere senza, come dire, avere ulteriori ostacoli e impedimenti. Ecco, penso che la battaglia che dovremmo fare dovrebbe in qualche modo, no, prendere e mettere al centro la questione di dispositivi europei legati alla libera circolazione delle persone che abbiano a che vedere non solamente con i cittadini di questo continente, ma con tutti i residenti e soggiornanti. Ecco, l'ultima cosa che forse ci può aiutare, no, per provare a rileggere al di fuori di questa narrazione tossica i processi di mobilità è che quando noi incontriamo sulle frontiere le persone che ci consegnano le loro storie e su cui noi poi costruiamo i nostri libri o proviamo a raccontare, come dire, a produrre un'altra narrazione sulle migrazioni, il linguaggio che utilizzano può essere quello della vittima perché il linguaggio della vittima è anche, come dire, una roba strumentale che può essere giocata per poter fare un passo più in là in questa mobilità che ostacolata. Però essenzialmente sono due le narrative con le quali ci confrontiamo e che ci mettono di fronte ai nostri occhi i migranti in transito che incontriamo. Il primo è la questione, il linguaggio dell'avventura e quindi ci parlano, ad esempio, dei loro viaggi come la grande avventura. Teniamo conto che abbiamo di fronte dei giovani, molto spesso dei ragazzi. Io ho spesso incontrato dei persone in viaggio, in cammino, che mi dicevano ma voi europei, voi studenti europei, avete l'Erasmus e noi abbiamo la migrazione. E quindi c'è una rivendicazione, no, di questo diritto alla mobilità universale in cui si mette anche in conto di, come dire, scontare una serie di rischi e di pericoli. A Seuta e Meniglia i ragazzi che provano ogni giorno a intrufolarsi dentro le reti del porto, a Seuta e Meniglia c'è un addoppio reticolato, c'è il reticolato che protegge, come protegge, tra virgolette, dal Marocco e poi c'è il reticolato che protegge il porto. Ecco, i ragazzi che provano ogni giorno a scavalcare queste reti e salire sulle navi parlano delle loro pratiche come rischi, no? E quasi, diventa quasi un gioco, un gioco permanente, no? Sulla ruota balcanica si parla di game, però c'è questa dimensione, come dire, del rischio, dell'avventura, dello sfidare qualcosa che è sentito come ingiusto. E l'altro linguaggio che viene spesso utilizzato è il linguaggio della guerra, perché effettivamente passare dei muri significa entrare in una situazione di guerra. ad esempio a Seuta e Meligna, negli accampamenti dietro le recinzioni, che vengono, come dire, costantemente sfidati, ci si prepara, e ci si prepara una guerra, una guerra che, come dire, richiede di costruire il proprio corpo per affrontare un avvorsario, che ha bisogno di tecniche e di formazione. Ad esempio i migranti che abbiamo incontrato si costruiscono delle scarpe con delle punte chiudate in modo tale da poter salire su queste reti, no? E quando si riesce a passare le reti si grida Bosa, che vuol dire in lingua fula vittoria. Questo per dire che questa dimensione, questa doppia dimensione, no? Legata all'assumersi il rischio, all'entrare nel viaggio come se fosse un'avventura, e dall'altro lo sfidare le frontiere, perché quella e una guerra sono qualcosa che impregnano le storie che incontriamo lungo il viaggio. Ovviamente, come dire, queste due dimensioni riflettono anche la necessità della cooperazione e dell'incontro. I viaggi sono fatti di incontri e di cooperazione, la capacità di stare insieme, di costruire, mettere insieme delle informazioni, di mettere insieme delle risorse, ovviamente, di entrare in relazioni con i cittadini solidali e con i residenti solidali che permettono di andare avanti o banalmente con pezzi delle loro reti che stanno avanti o indietro lungo la rotta e che permettono, ancora una volta, di dare un passo successivo. Ecco, io penso che guardando, come dire, e per chiudere, le immagini alla frontiera fra Polonia e Belorussia in questi giorni, c'è qualcosa che ci rivela e mette in evidenza, come dire, una mancanza, no? E penso che sia interessante che la Polonia abbia costruito una zona rossa attorno alla frontiera in cui né i solidali, né i giornalisti possono mettere piede, no? E nonostante questo leggiamo, stavo leggendo il Guardian oggi, della mobilitazione dei contadini polacchi per portare aiuto a chi è riuscito a passare dall'altro lato. Io mi fermerei qui e ci siamo successivamente per il dibattito che spero ricco. Bene, allora grazie per gli sguardi, per la prospettiva che ha offerto. Passiamo allora secondo programma al contributo di Nicola a tuoi anni. Allora innanzitutto buonasera a tutte e a tutti grazie molte per questo invito voglio ringraziare Lampi di Francoforte per avermi chiesto di dare un contributo a questa serata mi scuso con tutti e tutte voi per non averlo fatto in diretta come avrei voluto ma una serie di impegni me lo hanno impedito e dunque questo contributo è un contributo registrato ma spero possa essere utile in qualche modo interno alla discussione che state facendo. Che cosa è successo in questi anni in Europa in Italia e perché dal mio punto di vista le politiche migratorie messe in campo a livello continentale e per ciò che ci riguarda in Italia più direttamente dai governi che sono succeduti in questi anni uso volontariamente il plurale perché la mia impressione è che su questo fronte in modo assai trasversale le politiche pubbliche abbiano completamente sbagliato l'approccio talvolta per insipienza molto spesso per scelta politica è successo innanzitutto che il fenomeno migratorio è stato affrontato con l'approccio sbagliato le migrazioni sono state trattate come un continuo e reiterato fenomeno emergenziale la parola emergenza è la parola che ha accompagnato le politiche e le scelte in materia migratoria le leggi le iniziative nazionali e multilaterali e che ha in qualche modo segnato il dibattito pubblico perfino costruito senso comune attorno al tema delle migrazioni e questo è il primo e forse il più importante dei problemi perché se si affronta in modo emergenziale è qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'emergenza perché in effetti un fenomeno pienamente strutturale la risposta che ne deriva le scelte che si fanno sono inevitabilmente scelte sbagliate inefficaci e totalmente incapaci di misurarsi con la complessità di questo fenomeno le migrazioni sono appunto un gigantesco fenomeno strutturale sono un fenomeno strutturale che si sviluppa e si produce a livello globale che per la verità per la grande maggioranza non coinvolge i cosiddetti paesi del primo mondo siamo molto attenti attenti in Europa all'impatto dei fenomeni migratori sulle nostre società ma la verità è che la grande maggioranza degli uomini delle donne degli anziani dei bambini che ogni giorno migrano nel mondo cioè lasciano i loro paesi per diverse ragioni in cerca di una vita migliore e lo fanno all'interno delle aree del cosiddetto terzo mondo dei paesi più poveri e che sono essi sì maggiormente interessati dalle continue ondate migratorie le migrazioni appunto sono un enorme fenomeno strutturale che ha a che fare con che cosa ha a che fare innanzitutto con la diseguaglianza che cresce sempre di più sempre più vorticosamente sempre più velocemente a livello globale una diseguaglianza di carattere economico una diseguaglianza di opportunità di prospettiva ha a che fare con gli interessi che il cosiddetto primo mondo continua a coltivare in modo assai cinico sulla pelle non solo degli uomini e delle donne ma del futuro di intere aree del mondo da cui in buona parte provengono o muovono i flussi migratori più significativi ha a che fare con la cultura e la politica della guerra col commercio delle armi con gli interessi legati all'approvvigionamento energetico ha a che fare con i cambiamenti climatici che sempre più diventano uno dei fattori legati all'implementazione delle migrazioni i cosiddetti profughi climatici che ormai da qualche anno sono entrati diciamo a pieno titolo nel dibattito pubblico hanno esattamente a che fare con questa emergenza di cui peraltro questa si si dispute in questi giorni anche alla COP26 di Glasgow purtroppo anche in questo caso senza trovare soluzioni sufficienti o soddisfacenti al problema gigantesco che abbiamo di fronte dunque da un lato un enorme fenomeno strutturale un fenomeno diciamo che ha sempre caratterizzato la storia dell'umanità gli uomini e le donne si spostano e lo hanno sempre fatto e che in questi ultimi decenni appunto ha aumentato a causa delle ragioni che ho sommariamente indicato di fronte a questa dimensione del fenomeno la risposta europea e italiana è stata una risposta appunto tutta concentrata sulla gestione di una cosiddetta emergenza ora è chiaro che se si considera il fenomeno migratorio come un'emergenza lo si tratta come un fenomeno che può essere risolto come se ci confrontassimo con un rubinetto che perde acqua tanto per fare un esempio di semplice comprensione un rubinetto perde acqua si chiama qualcuno che lo ripara risolve quella perdita e quel rubinetto smette di perdere acqua ma quando invece appunto siamo di fronte a un fenomeno strutturale interventi di questo tipo sono non solo sbagliati ma impraticabili il risultato di questo approccio sono state una serie di norme che a livello nazionale a livello europeo hanno concentrato molta parte dell'attenzione una parte rilevante dell'attenzione politica ed economica dunque una parte dell'attenzione rispetto agli interventi legislativi e una parte dell'attenzione relativa all'investimento di risorse su che cosa? Sul contenimento del fenomeno migratorio sul tentativo di impedire che i migranti arrivassero o arrivino nel nostro continente da qui i regolamenti comunitari primo tra tutti il regolamento di Dublino che come è noto scarica sui paesi di primo approdo dunque in buona parte sui paesi del sud d'Europa con gli affacciati sulla rotta mediterranea o confinanti con la rotta balcanica che sono le due rotte principali di transito dei migranti verso l'Europa scarica buona parte del peso legato all'accoglienza alla gestione del fenomeno migratorio perché prevede una responsabilità legata appunto al riconoscimento del paese di primo approdo tu arrivi in Italia e l'Italia è in qualche modo responsabile di tutto il processo di accoglienza dalla diciamo dalla prima accoglienza alla seconda accoglienza alla valutazione delle domande di asilo e dunque alla possibilità che quel migrante poi abbia un percorso di possibile relazione col paese di arrivo e con il continente europeo più complessivamente inteso da qui la costruzione e l'investimento molto significativo che in questi anni è andato aumentando di Frontex cioè di un'agenzia che anche dal nome rivela la sua funzione un'agenzia che concentra i suoi sforzi su che cosa sul potenziamento e sulla difesa della frontiera della frontiera esterna dell'Europa mentre i cittadini e le cittadine europee da qualche anno anche qui per la verità talvolta con qualche eccezione si muovono con una relativa facilità e una relativa libertà all'interno dei confini dell'Unione chi proviene dall'esterno trova una frontiera che negli anni si è andata consolidando o quantomeno una frontiera sulla quale negli anni si sono riversati investimenti che avevano appunto il compito prioritario di consolidarne l'efficacia rispetto al pericolo rappresentato dall'arrivo di flussi di migranti lo stesso è accaduto nel rapporto tra l'Unione europea e alcuni dei paesi che sono per ragioni geografiche innanzitutto paesi di cosiddetto transito ci sono due esempi diciamo che rendono l'idea in modo molto evidente il primo riguarda l'accordo tra l'Unione europea e la Turchia da ormai qualche anno l'Unione europea versa nelle casse di Erdogan cioè di un dittatore particolarmente efferato sia nella politica interna che nella politica regionale diversi miliardi di euro per fare che cosa? Sostanzialmente per tenersi i migranti in particolare questo accordo è nato diciamo dopo l'accentuazione della crisi siriana di fronte al grande flusso che quella crisi aveva contribuito a determinare ma riguarda diciamo buona parte dei migranti che attraversano quel paese per arrivare via terra in questo caso alle frontiere alle frontiere europee si paga Erdogan perché Erdogan tenga lontano dalle nostre frontiere dunque dai nostri occhi come si potrebbe anche qui dire con una battuta il problema migratorio e le contraddizioni che questo cosiddetto problema porta porta con sé oppure basta pensare a quello che fa l'Italia in rapporto in particolare alla Libia la Libia è come è noto diciamo il punto principale di transito per la rotta mediterranea la rotta che attraversa il Mediterraneo centrale di Amare è un paese nel quale i migranti e le migranti sono sottoposti a condizioni di vita terribili spesso rinchiusi in veri e propri campi di concentramento sottoposti a tortura a violenze di ogni tipo a vessazioni di ogni tipo spesso diciamo utilizzati dai cosiddetti mercanti di uomini e di donne che spesso e volentieri sono le stesse persone che poi gestiscono la cosiddetta guardia costiera libica come strumento di accumulazione di profitto con la Libia l'Italia in questi anni ha fatto una cosa molto simile a quella che fa l'Europa con la Turchia di Erdogan e cioè ha pagato investito affinché la Libia sostanzialmente diventasse non più un luogo di transito ma un imbuto dal quale è impossibile fuoriuscire lo ha fatto finanziando infrastrutture facendo accordi con le istituzioni quando queste hanno avuto una qualche funzione lo fece in modo molto significativo nell'ultima fase del governo presieduto da Gheddafi e ha continuato a farlo anche negli anni successivi lo fa finanziando la cosiddetta guardia costiera libica e continuando a intrattenere programmi di partnership che hanno esattamente questa funzione tutto questo si è sviluppato appunto nel rapporto con la frontiera esterna dell'Europa ma anche all'interno del continente e dell'Italia in questo caso le politiche hanno avuto queste caratteristiche in Italia abbiamo ancora in vigore una legge la legge bossi fini che è una legge che diciamo per ridurla all'osso sostanzialmente rende impossibile l'ingresso in Italia in forma cosiddetta regolare uso anche qui volutamente questa parola perché nel dibattito pubblico la vicenda legata alle migrazioni ha assunto progressivamente anche dal punto di vista lessicale dunque culturale di senso una forma regressiva funzionale alla speculazione politica in particolare della destra nazionalista il nostro paese la lega su questo ha costruito buona parte le sue fortune elettorali negli ultimi anni utilizzando per esempio a piene mani termini come clandestino clandestinità che sono termini che indicano una sorta di colpa in chi vive una condizione che invece è il frutto appunto di una di una condizione di di subalternità di difficoltà di debolezza quella legge rende sostanzialmente intraticabile appunto l'ingresso nel nostro paese per via regolare rispetto alle norme italiane e dunque funziona come un amplificatore costante quotidiano perenne di irregolarità questo ha anche qui alimentato che cosa? un sistema di accoglienza in particolare penso alla prima accoglienza quella legata a tutte le strutture straordinarie che rappresentano più del 75% delle forme di accoglienza nel nostro paese ha determinato una condizione nella quale l'emergenza appunto si autoriproduce all'infinito si autoriproduce l'emergenza si autoriproduce lo stato di eccezione si autoriproduce quindi infine che cosa? una condizione di disgoverno del sistema appunto soluzioni emergenziali temporanee dunque pensate dentro una condizione di eccezione una volta che diventano nei fatti strumenti e soluzioni permanenti nella gestione di questo fenomeno producono un elemento di disgoverno il disgoverno aumenta gli elementi di inefficacia dunque rende sempre più negative le condizioni di vita di chi arriva nel nostro paese ma naturalmente aumenta anche le contraddizioni di un fenomeno complesso come questo produce nel rapporto tra chi arriva e i territori diciamo di arrivo quindi le comunità locali coinvolte in modo più massiccio dalla presenza per esempio di luoghi centri grandi centri di accoglienza tutto questo continua ad alimentare un meccanismo che è diventato appunto in questi anni il terreno di investimento principale di una vera e propria impresa in questo caso è un'impresa talvolta economica attraversata peraltro anche qui e per le stesse ragioni da fenomeni corruttivi anche particolarmente significativi ma che è soprattutto un'impresa politica il fenomeno dell'emigrazione è diventato uno straordinario strumento di accumulazione di consenso elettorale per tutti i partiti della destra e dell'estrema destra nazionalista in Europa e naturalmente nel nostro paese in Italia perché ha consentito di rispondere alle paure legate agli effetti della globalizzazione sul terreno della ricursione dei diritti dell'impoverimento dei salari e degli stipendi del peggioramento della condizione della vita della maggioranza dei cittadini e delle cittadine in questi ultimi anni e decenni ha consentito di investire su questa paura scaricando la risposta a queste paure a questi elementi di insicurezza crescente su chi appunto sui migranti sui più deboli su chi non ha naturalmente nessuna responsabilità in questa situazione anzi avrebbe solo diciamo da chiedere qualcosa in cambio rispetto a quello che gli è stato tolto ma che viene indicato come il facile avversario il facile nemico con cui prendersela su questo appunto la destra e l'estrema destra nazionalista in tutta Europa ha costruito un potente strumento di accumulazione di consenso di ricostruzione della propria egemonia culturale di risposta alla crisi che invece ha naturalmente tutt'altre ragioni di terattore politico economico legato alle scelte che hanno aumentato la diseguaglianza che hanno ridotto gli strumenti di costruzione di un welfare state di un impianto di diritti universali in grado di occuparsi delle fragilità che nelle nostre società sono andate enormemente crescendo ora rispetto a tutto questo che cosa andrebbe fatto che cosa andrebbe fatto anche per intervenire diciamo da un lato sulla dinamica che si produce dentro le rotte delle migrazioni dall'altro per provare a invertire la tendenza non dico risolverli da un giorno all'altro ma invertire la tendenza rispetto a quei fattori che incrementano il fenomeno migratorio lo rendono appunto permanente ma anche sempre più rilevante sul piano dei flussi occorrerebbe fare un insieme di azioni non c'è nessuna iniziativa che da sola risponde al problema servirebbero una serie di azioni innanzitutto servirebbe un'iniziativa serve un'iniziativa di carattere culturale politico e culturale occorre decostruire il racconto che la destra ha messo in campo per costruire il proprio consenso e per dipingere il fenomeno migratorio come sostanzialmente la più grande minaccia che abbiamo di fronte a noi perché questo è capitato la destra europea certamente la destra italiana ma credo di poterlo dire la destra l'estrema destra nazionalista europea descrive l'immigrazione come un'invasione come il grande processo di sostituzione etnica delle nostre società bisogna diciamo smontare decostruire questo discorso con i numeri con i dati raccontando per esempio che negli ultimi decenni il fenomeno migratorio pur nella sua complessità incide in misura sostanzialmente o quasi irrilevante sul piano numerico e quantitativo rispetto alla condizione della popolazione di un grande continente come quello europeo secondo occorrono iniziative legate alla ridefinizione dell'impianto legislativo va cambiato il trattato di Dublino sono molti anni che se ne parla sono molti anni che si lavora in questa direzione sono molti anni che quel trattato non cambia nella sua sostanza dunque non costruisce un meccanismo interno rispetto al tema dell'accoglienza della procedura della richiesta d'asilo di protezione internazionale in grado di determinare un meccanismo cooperativo a livello europeo anche qui non voglio usare il termine redistribuzione perché non parliamo di tacchi quando parliamo di storie di vite che hanno ognuna nella loro singolarità una specificità di cui sarebbe necessario prendersi in qualche modo cura o alla quale sarebbe necessario prestare una qualche attenzione ma certamente un meccanismo cooperativo sì cioè che faccia in modo che l'Unione Europea l'Europa si assuma collettivamente la gestione di un fenomeno che appunto ha tratti di fortissima complessità sarebbe necessario naturalmente non solo interrompere la collaborazione con paesi come la Libia come la Turchia su questo fronte e nelle modalità diciamo in cui questa collaborazione si è andata costruendo in questi anni definendo invece la costruzione di corridori umanitari in grado di garantire rotte sicure tratte sicure a chi fugge dal proprio paese assumendo anche qui un dato di realtà un altro degli elementi che hanno occupato il discorso pubblico moltissimo in Italia per esempio riguarda la cosiddetta distinzione tra i profughi e i migranti economici i profughi sì i migranti economici via vanno rispediti come se chi fugge diciamo perché ha fame perché non sa come mangiare come dare una prospettiva alla propria famiglia a se stesso avesse meno ragioni per fuggire per scappare per intraprendere una rotta che spesso e volentieri è una rotta diciamo che contiene al suo interno un'altissima possibilità di non arrivarne al termine e dunque bisognerebbe su questo costruire un intervento che via terra e via mare ricordo che la rotta del Mediterraneo centrale è una delle rotte considerate più pericolose al mondo il numero di persone che in questi decenni ha perso la vita tentando di attraversare quella rotta è un numero impressionante il Mediterraneo è ormai il più grande cimitero a cielo aperto del mondo anche in questo caso la politica europea ha costruito in questi anni missioni di investimenti tutti concentrati progressivamente sempre più concentrati sul controllo sostanzialmente su politiche di restringimento legate al tentativo di impedire che il flusso migratorio continuasse occorrerebbe e sarebbe necessario costruire una grande missione europea di ricerca e soccorso di chi affronta le tratte migratorie in particolare in mare ma anche a terra rispetto alla rotta balcania oggi questo lavoro è appaltato in una dimensione di supplenza alle cosiddette organizzazioni non governative che spesso peraltro vengono trattate dai paesi europei come dei nemici da contrastare e da combattere la difficoltà ad avere porti di attracco a poter svolgere le proprie funzioni l'ostilità talvolta esplicita dei governi nazionali nei confronti di chi appunto si sostituisce a chi dovrebbe con titolarità svolgere questa funzione cioè gli stati nazionali l'Europa come il continente è lì a testimoniarlo terzo servono norme europee e nazionali che ridefiniscano e ridiscutano i meccanismi e i percorsi di accoglienza e poi diciamo di progressivo avviamento ad una condizione di cittadinanza piena cittadinanza europea nazionale ma europea direi io in prospettiva dei migranti e delle migranti che arrivano sul nostro territorio superando quel meccanismo emergenziale che appunto come si vede anche nella costruzione del percorso e dei percorsi e dei sistemi di accoglienza ha prodotto in questi anni una catena infinita di insuccessi e talvolta di disastri quarto ma non per importanza occorre e occorrerebbe una politica estera una politica internazionale economica e non solo in grado di intervenire sulle cause che in misura maggiore contribuiscono ad alimentare questo fenomeno significa per esempio mettere la parola fine all'enorme capitolo economico del commercio delle armi che spesso si rivolge anche in violazione delle singole normative nazionali certamente in violazione delle leggi italiane sul commercio delle armi verso paesi attualmente impegnati direttamente o indirettamente in conflitti che appunto quotidianamente alimentano la fuga di migliaia se non di milioni di persone dai loro territori diventati individui a causa delle guerre che in quei territori si riproducono con un'impressionante continuità occorrerebbero diverse politiche energetiche magari in grado di incrociare anche le priorità che proprio in queste ore in questi giorni sono al centro di quella che purtroppo si annuncia come la fallimentare riunione della COP26 di Glasgow per la lotta al cambiamento climatico fino a quando le politiche di approvvigionamento energetico di accaparramento delle fonti energetiche che sono in questo caso tutte fonti fossili continueranno a essere diciamo il terreno principale su cui si costruisce la politica estera di buona parte dei paesi europei fino a quando diciamo l'attenzione alle materie prime che in alcuni paesi costituiscono diciamo una preda particolarmente particolarmente pregiata per i nostri interessi economici resteranno gli unici elementi gli elementi principali di orientamento della nostra politica estera è del tutto evidente che la condizione crescente di deprivazione di quei territori continuerà diciamo a funzionare come un elemento di implementazione dei processi migratori altro che pull factor appioppato alle cosiddette organizzazioni non governative che smolgono la loro funzione importantissima in mezzo al mar Mediterraneo spesso e volentieri anche nel dibattito italiano questo è uno degli argomenti utilizzati nell'operazione di legge e di costruzione di ostinità in generale nei confronti delle organizzazioni non governative dicono ma loro attraggono i migranti perché quindi partono sapendo che c'è qualcuno che poi li trasporta ne hanno chiamate taxi del mare uno dei fattori che appunto invece alimenta continuamente la crescita dei flussi migratori è esattamente l'atteggiamento predatorio dei nostri paesi nei confronti dei paesi di partenza dei migranti e delle migranti naturalmente si tratta diciamo come si vede dunque di un impianto di politica che complessivamente a diversi livelli dovrebbe mutare radicalmente e su cui è necessario costruire un elemento di controtendenza su cui è necessario costruire un'alleanza un'alleanza politica in Europa capace di contrastare l'alleanza delle destre nazionaliste e delle estreme destre su cui è necessario costruire un'alleanza tra la politica la società civile che quotidianamente è impegnata non solo per fornire assistenza ma anche appunto per costruire altri percorsi altre politiche altre prospettive rispetto a questo grande tema appunto per una ragione e concludo perché è del tutto evidente che al netto della politica delle valutazioni politiche dell'etica pubblica delle scelte di ciò che per noi è giusto o ingiusto e dove stiamo da che parte stiamo noi discutiamo anche in questa sede è abbastanza noto è del tutto evidente che queste politiche questo approccio delle politiche pubbliche al fenomeno delle migrazioni è un approccio completamente sbagliato completamente inefficace anche perfino rispetto agli obiettivi che quelle politiche dichiarano come obiettivi prioritari obiettivi che io considero sbagliati ma che al netto di questo sono comunque obiettivi irraggiungibili con politiche che non si misurano con la dimensione effettiva con le cause con le ragioni ma soprattutto con le caratteristiche di un fenomeno di enorme complessità come quello di cui anche stasera stiamo parlando io mi fermo qui mi sa che forse l'ho già fatta un po' lunga e vi ringrazio e vi auguro diciamo una buona discussione ringraziamo in un certo senso indifferita per i molti accenni alla dimensione politica strutturale anche accenni operativi in conclusione e passo il testimone a Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi bene allora noi io e Andrea vi ringraziamo molto per averci invitato tra l'altro per me è un onore essere invitata addirittura da Lampi di Francoforte sono figlia sono figlia sono figlia di due partigiani e quindi il fatto di poter partecipare di essere stata invitata a questo mi fa molto piacere lascerei adesso la parola però a mio marito a Gianandrea Franchi e io intervengo magari su questioni che mi in cui mi riconosco meglio di più bene come premessa vorrei dire che tutto quello che cercherò di dire e non voglio essere lungo e spero di non essere confuso deriva dall'esperienza dall'esperienza naturalmente confrontata con dei concetti con dei pensieri con delle letture sono un uomo anziano e ho passato buona parte della mia vita sono un uomo del 68 per dire in poche parole senza perdere tempo ho passato buona parte la mia vita a fare attività politica nella società con gruppi collettivi un insegnante di liceo studenti a lottare contro questo tipo di società ora da sei anni io e Lorena ci occupiamo di questo tipo particolare di migrazioni che è iniziato verso il 2014 questo tipo di migrazioni che noi abbiamo cominciato con difficoltà con stupore con dolore a leggere attraverso i corpi di questi migranti che nell'inverno 2014 2015 allora noi non eravamo a Trieste dove siamo solo da tre anni eravamo nell'interno del Friuli nella città di Pordenone dove arrivava la prima rotta tutto il Friuli la prima rotta balcanica Serbia e poi Ungheria Austria insomma veniva dal nord avevamo già avuto un'esperienza di migrazioni della provincia di Pordenone che è una provincia molto industrializzata anche se adesso ovviamente come tutto in declino ed erano le migrazioni africane degli anni 80-90 molto diverse da quelle attuali perché queste persone della prima migrazione venivano essenzialmente per lavorare per cercare lavoro per fare gli operai e diventavano spesso operai ce ne sono ce ne erano molti e ce ne sono molti ancora nelle province industriali italiane penso per esempio la provincia di Brescia girando per la città di Brescia si vedono continuamente persone di colore molto diverse queste seconde migrazioni quando noi abbiamo contattato i primi gruppi migranti ci siamo trovati di fronte a persone che avevano evidentemente nel corpo segni di sofferenza acuta erano affamati erano stracciati erano stanchi avevano bisogno di tutto e abbiamo cominciato a lavorare con loro rapportandoci con il loro corpo cercando di soddisfare questi bisogni per entrare in relazione con loro dopo sei anni di lavoro quotidiano sia in Friuli che nella piazza della stazione di Trieste che in Bosnia dove siamo andati 26 volte dal giugno del 2018 io mi sono formato l'idea che questo tipo di migrazioni la ruta balcanica ma anche la ruta africana ma anche la ruta sudamericana sono un fenomeno essenziale del nostro tempo testimoniano il residuo del colonialismo il Medio Oriente è una struttura inventata dalla Francia e dalla Gran Bretagna alla crisi dell'impero turco testimoniano il carattere della politica delle grandi potenze occidentali e non compresa la Cina che è una politica governata dall'economia in cui tutto il resto non conta niente per capire quando per esempio si va in Bosnia e si vedono queste persone nella cosiddetta jungle nelle boscaglie di inverno per esempio l'ultima volta che siamo andati in Bosnia siamo tornati il 13 ottobre proprio mentre si parlava dell'Afghanistan in Italia nella cittadina di Velika Kladusha a due chilometri dal confine c'erano 150 famiglie afghane nel fango con una temperatura già sui 10 gradi pioggia tutto il giorno con centinaia di bambini era un villaggio afgano lì nel fango nella miseria che tentavano disperatamente di varcare il confine con l'antemurale croato con la fortezza croata la fortezza Europa che senso ha tutto questo che senso aveva ci siamo chiesti ha semplicemente un senso che l'occupazione dell'Afghanistan ha seguito interessi che nulla non avevano a che vedere con i problemi dell'Afghanistan sappiamo che le industrie delle armi nei vent'anni in cui gli Stati Uniti sono rimasti in Afghanistan hanno realizzato profitti stratosferici sappiamo che se le armi non servono per fare le guerre ma le guerre servono per produrre armi cioè per produrre reddito e quindi la politica dell'Europa ha questa cecità questa indifferenza totale nei confronti della vita umana perché è una politica governata dall'economia e l'economia al comando i governi sono in forme varie a secondo della loro storia e a seconda delle contingenze locali il governo dell'economia quindi questa è la politica dell'Europa e non cambierà e non cambierà se non cambieranno i valori fondamentali di questo tipo di economia diciamo pure del capitalismo ora la questione dei migranti si può affrontare solo organizzandosi dal basso creando situazioni luoghi strutture di accoglienza creando reti tra gli attivisti che lavorano con i migranti creando forme di socialità alternativa nel rapporto con i migranti come noi cerchiamo di fare tutti i giorni nella piazza della stazione di Trieste accogliendo i migranti soddisfacendo i loro bisogni ma la soddisfazione di questi bisogni è un mezzo per entrare in relazione con loro per riscattare l'umiliazione profonda che hanno ricevuto dalle polizie ridare loro il carattere di persona socializzare solidarizzare creando con loro un embrione di diversa società è molto difficile fare questo perché siamo pochi siamo isolati anche se in realtà non siamo tanto pochi però siamo isolati nel senso che ci sono molti gruppi gli attivisti in giro per l'Europa in Bosnia lungo tutta la rotta balcanica in Grecia ma è estremamente difficile creare delle reti stabili continuative che possano creare appunto quella ferrovia di sotterranea di cui parlava Palmas prima che è quello che noi dobbiamo fare creare reti di socialità alternativa e capire il messaggio che ci portano i migranti che è il messaggio dell'invivibilità di questo sistema economico mondiale invivibilità da tutti i punti di vista ivi compreso quello ambientale di cui si parlava si è parlato si sta ancora finendo di parlare così vanamente in Scozia dopo la sceneggiata italiana i migranti ci parlano anche anzi ci parlano essenzialmente del mondo che si sta producendo e che non è si è mai prodotto prima nella storia è un mondo di distruzione biologica di distruzione geologica di distruzione delle fonti stesse della vita questo è il messaggio profondo radicale che i migranti ci portano e sono portatori del diritto fondamentale che nessuno stato può riconoscere di andare dove vogliono un migrante pakistano alcuni mesi fa su una panchina della stazione di Pordenone ci diceva di Trieste scusate ci diceva io voglio andare in un luogo dove possa essere rispettato dove sia la mia vita sia una vita dignitosa ecco questo è il messaggio che ci portano i migranti è un messaggio rivoluzionario se vogliamo usare questa parola che oggi non credo sia molto usata e accogliere questo messaggio vuol dire appunto creare reti di solidarietà visti come azione politica di creazione di forme alternative di solidarietà oggi la solidarietà è un reato prendiamo l'esempio di Mimmo Lucano Mimmo Lucano è stato punito in maniera così incredibile con una condanna che di solito si dà per reati gravissimi proprio perché quello che lui faceva in questo piccolo paese del sud poteva essere un esempio che poteva diffondersi in tanti altri paesi semidisabitati paesi a loro volta che sono paesi di migranti di persone che sono andati a cercare una vita altrove e poteva essere l'inizio significativo di forme di riscatto sociale di quelle forme di riscatto sociale di cui abbiamo tanto bisogno quindi l'impegno politico con i migranti è oggi una delle forme di azione fondamentale nel tentativo di instaurare forme di socialità alternativa di accogliere il messaggio dei migranti che è un messaggio dell'invivibilità del mondo che noi stiamo producendo quando io guardo il mio nipotino di quattro anni penso ma quando lui avrà quarant'anni cinquant'anni in che mondo vivrà non posso immaginarlo credo che sia la prima volta nella storia che noi consegniamo ai nostri nipoti un non mondo un qualcosa che non riusciamo a pensare non riusciamo ad elaborare e i migranti questo tipo di migrazioni ci portano a questo messaggio non continuate così perché state operando la distruzione della vita la distruzione della società la distruzione di ogni valore per cui vale la pena di vivere ecco perché occuparsi dei migranti è un'azione politica oggi assolutamente fondamentale l'Europa non farà niente questa Europa non farà niente continuerà a fare campi continuerà a utilizzare i flussi di migranti che malgrado tutto riescono a passare come forza lavoro a bassissimo prezzo semiservile pensiamo al sud Europa ma non solo al sud Italia ma non solo al sud Italia la provincia di Brescia per esempio è piena di migranti ma in Europa hanno questa funzione di mano d'opera di terza scelta diciamo così di terza categoria e quindi l'unica possibilità di riscatto è l'azione dal basso il confine non è solo come è stato detto il professor Palmas non è solo là dove lo è formalmente ma è dovunque i migranti portano il confine in loro stessi avranno sempre un confine l'integrazione non è possibile è una favola lo diceva anche il grande scrittore afgano Atik Rahimi uno scrittore che ha vinto il premio concours quindi potrebbe essere è che il cittadino francese potrebbe essere un esempio di perfetta integrazione e lui dice c'è stato un incontro a Pordenone dove ha ricevuto un premio io sarò un migrante per tutta la vita nel vuoto tra una patria che non ho più e un'altra patria che non avrò mai quindi l'integrazione non è possibile è possibile solo ricostruire forme di socialità degne a partire dall'incontro solidale con i migranti posso fare per concludere un esempio che sintetizza quello che ho detto un giorno del 2017 in una strada trafficatissima nella periferia di Pordenone un giovane pakistano ha preso la sua coperta il suo straccio di coperta e si è messo in mezzo alla strada si è sdariato in mezzo alla strada interrompendo il traffico creando il caos è stato un gesto di una ricchezza e di una vitalità impressionante io passavo lì nei pressi ha detto io esisto io sono qui il mio corpo è qui non sono un nulla non sono un animale non sono qualcosa che non va nemmeno visto o che va cacciata sono un essere vivente che vuole mettere qui il suo corpo e trarre tutte le conseguenze dal diritto di vivere dignitosamente che è inscritto nel mio corpo credo che con questo gesto al di là della sua consapevolezza ovviamente ci abbia lanciato il messaggio fondamentale che noi dobbiamo raccogliere che cerchiamo di raccogliere tutti i giorni a Trieste e in Bosnia grazie se posso aggiungere qualcosa io c'è tempo c'è un attimo di spazio certo ecco a me è sempre difficile intervenire dopo Andrea ma soprattutto anche dopo il professor Palmas in cui mi riconosco in tantissimi concetti che noi pratichiamo che per noi sono esperienza quando prima il professor Palmas diceva il migrante non è una vittima questa cosa io la riconosco assolutamente in pieno lo vediamo ogni giorno nella piazza del mondo quando questi ragazzi arrivano in condizioni assolutamente disastrose ma con una dignità sono portatori di una dignità incredibile e sono portatori di una speranza di un pensiero di speranza quello in cui io mi riconosco e che e che e che pratico e adesso dico una parola che in cui spero di essere compresa è l'amore l'amore non come sentimento non lo intendo così ovviamente è anche così ma non è questo ma l'amore come forma di pensiero verso l'altro senza amore senza questo pensiero per il bene dell'altro nessuno nasce alla propria soggettività quello che noi facciamo il mio il nostro credo pensiero pensiero verso l'altro che appunto chiama un pensiero d'amore farsi innanzitutto attraverso il riconoscimento di vite che sono state disumanizzate che sono state rese delle non persone quando arrivano questi questi ragazzi hanno i corpi sfiniti hanno i piedi piegatissimi hanno alcuni c'è stato un episodio l'altra sera abbastanza sconcertante direi traumatico di un minore di 16 anni che stava completamente avvolto dentro una coperta stava lì in mezzo a noi ma completamente avvolto avvolto in questa coperta e quindi il messaggio che vuol dire che questo ragazzo era molto traumatizzato aveva subito delle violenze inimmaginabili che non sono neanche da ripetere ma questo vuol dire che però in un qualche modo si fidava pur proteggendosi da noi ma stava lì nel nostro spazio perché nella piazza del mondo linea d'ombra pratica qualche cosa che vorrei dire che è rivoluzionario che si chiama appunto amore capacità cioè di pensare l'altro noi siamo ritornati dalla Bosnia il 13 di ottobre quello che abbiamo provato è molto peggio di quel disastro umanitario che abbiamo conosciuto nel 2018 quando siamo scesi per la prima volta Andrea vi parlava prima di 150 famiglie fagane c'erano ben 300 bambini che vivevano assolutamente nel fango abbiamo conosciuto una comunità di kurdi che sono perseguitati in un modo terribile che sono molti di loro tra i kurdi troviamo persone che hanno subito torture e atroci in Iran abbiamo conosciuto quindi dei casi limite mentre qua in Italia tutti quanti si riempivano la bocca di una parola il corridoio umanitario non sono in grado anzi no non è vero scusate non si vuole assolutamente fare un corridoio sanitario per chi come Amir Labaf che è un sufi e un kurdo è rimasto paralizzato perché la polizia croata lo ha prelevato dall'ospedale di Rieca semi paralizzato e dopo lo ha gettato tra le sterbaglie nel border tra la Croazia e la Slovenia e Amir Labaf ha dovuto trascinare il suo corpo semi paralizzato come una viscia una notte intera e una mattina finché qualcuno lo ha provato e raccattato come un'immondizia lo ha raccattato e da lì è iniziato un altro processo ancora assolutamente doloroso oppure Ariane un altro ragazzo che è paralizzato e che vivono in condizioni assolutamente assolutamente terribili e disastrose per queste persone e per tanti altri rimasti senza gambe non dimentichiamolo assolutamente per tutti per queste persone non esiste un corridoio sanitario però si parla di corridoio di corridoio umanitario sapendo benissimo che ci si riempie la bocca di menzogna perché il corridoio umanitario si l'avranno fatto per i collaboratori per insomma delle per qualche forse centinaio di persone ben venga ma perché non prendete non si prende una corriera e non si va ai confini i nostri confini di terra a prendere questi bambini afghani azzari quindi un'etnia maggiormente perseguitata perché non si vanno a prendere queste famiglie e non le si porta qua soprattutto perché l'Europa continua a pagare affinché avvengano dei crimini atroci all'interno della Croazia ma sapete di che cosa noi siamo testimoni attualmente nei nostri viaggi non è la prima volta che lo sentiamo ormai sono parecchi casi i soldi che l'Europa dà alla Croazia per la migrazione sono soldi che vengono impiegati per implementare al meglio tutti i vari dispositivi elettronici sofisticati al massimo per cui chiunque anche di notte insomma si trovi in un bosco può essere individuato dai radar dai termorilevatori poi arrivano i cani d'assalto arrivano tutte queste cose qua ma l'ultima atrocità è che quando rintrazzano delle famiglie con dei bambini separano i bambini i bambini vengono mandati in strutture per minori non accompagnati e i genitori vengono rispediti in Bosnia ma come la chiamate questa politica come si chiama una politica di una crudeltà così scientifica perché non è una la crudeltà delle della mela marcia del cattivo poliziotto no no questa è la scienza che si è messa a disposizione della della tortura e una cosa croce che sta sì in questo caso vabbè della Croazia ecco noi stiamo assistendo a tutto questo e nonostante i ragazzi le famiglie continuano a a tentare il game ogni giorno ci sono dei morti lungo la rotta balcanica morti di cui nessuno parla morti che non hanno neanche un nome ed è una cosa terribile non poter per una madre seppellire un giorno non poterlo mai seppellire un proprio figlio non poter dire una preghiera sulla sua tomba sulla sua terra non poter dire mio figlio è vivo e mio figlio è morto e quello che ci dicono questi questi ragazzi queste famiglie è che non hanno scelta o vivono o muoiono e allora tentano il game e quelli che noi vediamo nella piazza del mondo sono i cosiddetti sopravvissuti poi dobbiamo aggiungere anche una cosa che noi ci occupiamo di migranti illegali secondo i decreti salvini lo uso in questo senso per noi invece sono delle persone e sono delle persone in transito persone che non vogliono fermarsi a Trieste perché Trieste è la città delle deportazioni Trieste è la città in cui un prefetto si permette ancora oggi di dire che vanno ripristinate le riamissioni sapendo benissimo che da voce all'illegalità come se l'illegalità di Stato fosse appunto la legalità da praticare e questo è ma è così verrebbe da dire è scandaloso inconcepibile ma ormai anche questi termini sono assolutamente desueti ed ecco perché insomma noi ci troviamo lì nella piazza del mondo per riconoscere a queste persone il diritto di esistere per dire tu esisti se tu non esisti per lo Stato se tu non esisterai mai perché non hai un documento esisti per noi esisti nei nostri pensieri noi ti riconosciamo ti sorgiamo con te siamo due soggetti sicuramente assimmetrici io ho un potere che tu non hai però facciamo un gesto che è appunto un gesto di riconoscimento toccando questi corpi toccando i loro piedi offrendo del cibo con l'amore come si può offrire non il cibo ad un povero migrante ma il cibo a un fratello a un figlio che ci è stato consegnato dalle madri di altri mondi ed è stato consegnato a noi magri figli sorelle uomini di quest'altro mondo affinché prendiamo in mano questa eredità assolutamente dolorosa e non è finita qui continuiamo a resistere la piazza del mondo è uno spazio di esistenza come dicono i palestinesi esistere per esistere e resistere per esistere chissà quanti sprafalzoni che avevo avver detto ma comunque è quello che penso cioè io penso dall'esperienza ecco non mi riconosco assolutamente nel linguaggio politichese che è così lontano dalla realtà che potrei leggere un libro ed è la stessa cosa questa è l'esperienza venite nei nostri confini di terra a vedere quello che succede per noi sono 350 chilometri che in macchina li percorriamo in tre ore per i migranti per questi ragazzi che partono con le scarpe di tela e devono andare su per montagne verticose fare dirupi terribili sono 350 chilometri sono 15 20 giorni di cammino a piedi con i cani d'assalto i mastini con cui vengono assaltati muoiono nei fiumi cadono nelle buche di dolina venite nei nostri confini di terra c'è la rotta mediterranea che è tremenda e c'è anche questa rotta di terra venite a conoscerla grazie a tutti grazie a tutti